lascia che l'energia parli tramite te quest'estate riderete ballerete vi innamorerete videocorso magia d'amore e i segreti della telepsichia un corso per entrare nella sua mente iscriviti subito www.vocidagliangeli.com buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro oracolo angelico giornaliero scappa prima prima carta scappata la seconda carta non era molto convinta di uscire quindi l'ho lasciata dentro ok sono cadute tre carte e io direi di tenerle e vedere un po che cosa ci riserva la giornata di oggi porca miseria questa carta della stella rovesciata è ancora qui no vabbè ma ragazzi ma lo vedete che carte sono studenti immediatamente mettete in pausa guardate le carte e pensate o dite la vostra guardate qua che combinazione abbiamo fortissima potentissima qualcuno di voi si sveglierà la mattina stamattina o con un cerchio alla testa o con una vibrazione dentro una di quelle energie difficili da gestire cioè vi rendete conto studenti di primo ma soprattutto di secondo livello perché qui abbiamo quattro carte rovesciate quindi ecco che questo è un esercizio un compitino per casa perfetto per voi ma anche chi è di primo livello voi sapete che può già cominciare un po a comprendere il senso dei rovesci guardando queste stese quindi abbiamo gli amanti rovesciati la papessa rovesciata la stella rovesciata e il dieci di denari rovesciato che non è un arcano maggiore ma comunque pur essendo un arcano minore è una carta molto forte molto potente e non solo ieri o comunque nell'ultimo oracolo angelico avevamo sia la stella rovesciata che il dieci di denari rovesciato vedete le energie ridondanti questo sta proprio ad indicare che si tratta di energie che non riguardano solamente la giornata di oggi oppure subito prima o subito dopo ma riguardano un arco di tempo un periodo di tempo queste sono energie che appunto trovandole noi in due oracoli consecutivi tra l'altro ragazzi le coincidenze non esistono vi rendete conto che è quasi impossibile che per caso escano fuori su tre quattro carte su 78 lame di cui queste 78 possono avere un quasi infinito numero di combinazioni diverse se consideriamo i rovesci abbiamo di nuovo un giorno dopo l'altro due lame uguali nella stessa posizione quindi rovesciate entrambe insomma vi renderete conto che questo è un chiaro messaggio da parte delle nostre carte che queste energie sono fortissime quindi abbiamo l'energia dei dettagli che mancano del desiderio della spinta in avanti e l'energia del guerriero che abbiamo già incontrato ma iniziamo dalla prima carta e andiamo a vedere appunto che cosa accade perché se non sbaglio la carta dell'ultimo oracolo era l'altra carta dell'ultimo oracolo era un sette di coppe rovesciato quindi l'impossibilità di scegliere oggi noi abbiamo ancora questa impossibilità di scegliere perché con gli amanti rovesciati gli amanti sono la scelta rovesciati sono una difficoltà a fare una scelta quindi continua questa energia strana di di non potere veramente decidere di non avere davvero un grande potere decisionale nelle nostre mani o perlomeno non abbiamo la percezione di questo potere anzi abbiamo la sensazione di non riuscire a di non potere decidere di di non avere scelta e quindi di essere un po in balia di ciò che accade con la papessa rovesciata però abbiamo anche fretta cioè non possiamo decidere ma avremo una incredibile fretta di farlo sembra che siamo rimasti fermi bloccati per un lungo periodo di tempo guardando un qualcosa osservando questo qualcosa da lontano desiderando di fare di agire di mettere in moto nuove energie di portare appunto l'azione dal campo mentale perché abbiamo pensato 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 al campo materiale quindi pratica fare agire muovere costruire e invece siamo ancora lì che non riuscendo appunto a comprendere come farlo non riusciamo ad agire e rimaniamo con l'energia di questa fretta di questo desiderio quasi spasmodico ormai perché è lì da un po di passare dalla teoria alla pratica la teoria e l'abbiamo fatta e siamo rimasti siamo rimasti in un vicolo cieco in un punto di non ritorno oltre il quale non riusciamo più ad andare avanti ma non potendo appunto superare questo vicolo cieco non possiamo nemmeno passare dalla teoria alla pratica perché sì facciamo facciamo ok ma cosa facciamo se non capiamo cosa non possiamo farlo ed ecco che ancora ritornano le nostre due carte ridondanti la stella rovesciata e il dieci di denari rovesciato e quindi il il guerriero che è in noi che sta di dover agire che sta di dover fare tutto da solo che sta di non avere aiuto da fuori che sta di non avere la fortuna dalla sua parte perché sembra quasi che l'oroscopo sia contro di noi sembra quasi che le stelle non ci stiano dando un aiuto e che appunto o ci rimbocchiamo le maniche oppure rimarremmo lì per chissà quanto e invece no con la stella sappiamo che dobbiamo fare fare cosa lavorare su cosa ovvio sul dieci di denari rovesciato che come abbiamo visto nell'ultimo oracolo è il la rappresentazione la manifestazione di ciò che manca perché è vero che abbiamo tutto le cose importanti ci sono ma se sentiamo questa spinta questo desiderio a un miglioramento a un cambiamento ad andare avanti a fare qualcosa di più ad avere qualcosa di più a concretizzare qualcosa che finora magari è rimasto un po in un limbo o è rimasto un po campato per aria se noi vogliamo quel qualcosa che sia solido che sia concreto che sia nelle nostre mani questa è l'ambito nel quale noi dobbiamo agire e vi chiedo per favore ragazzi di commentare su qual è questo ambito sul quale voi volete agire su quale vi manca questo qualcosa questa realizzazione completa perché potrebbe davvero essere qualunque ambito relazione amore lavoro professione progetti viaggi famiglia qualsiasi qualsiasi cosa anche nell'ambito delle amicizie e adesso passiamo al nostro oracolo angelico prendiamo una carta angelica e magari gli angeli chissà avranno qualcosa di più da dirci per darci una mano a gestire un po tutto questo quindi vediamo un po eccola qui la nostra carta abbiamo un paggio di fuoco il paggio di fuoco che però è caduto rovesciato quindi anche in questo caso abbiamo 5 su 5 carte rovesciate sono proprio energie bloccate sono energie che vorrebbero sbloccarsi vorrebbero esplodere vorrebbero uscire e invece sono tutte bloccaticce intanto però con questo paggio di fuoco che era rovesciato ci sono novità ci sono novità ragazzi è chiaro che le novità sono nell'aria è chiaro che c'è un qualcosa di nuovo e di entusiasmante che ci attende e noi in teoria non vediamo l'ora di sfruttare la nostra originalità di sfruttare la nostra purezza la nostra creatività per buttarci e per lanciarci in questo qualcosa di nuovo il problema è che questo qualcosa non è ancora pronto a muoversi e il motivo per cui non siamo pronti a muoverci sembra la paura di agire sembra che allora vi dico questa vi dico questa così magari potrebbe esservi utile sembra che gli ostacoli siano esterni sembra che gli ostacoli non dipendano da noi in realtà però questa carta questo paggio di fuoco che è caduto rovesciato ci sta puntando il dito sul fatto che sembra che gli ostacoli siano esterni a noi in realtà non lo sono in realtà gli ostacoli sono dentro gli ostacoli sono dipendono dal nostro modo di affrontare la cosa dal nostro modo di vederla di percepirla di osservarla di non riuscire a uscire un po dagli schemi se riuscissimo a uscire un po dagli schemi della nostra mente a vedere le cose in modo diverso ecco che queste energie in gran parte potrebbero anche sbloccarsi ma ovviamente non mi sembra semplice nella maniera più assoluta quindi ecco che comunque ci ritroviamo con questa novità per le mani ci ritroviamo con questa energia dentro di noi che vorrebbe esplodere fuori che vorrebbe portarci a questo a questa azione che tra l'altro sulla quale tra l'altro noi abbiamo meditato a lungo abbiamo davvero riflettuto tanto ormai la nostra testa sembra un criceto che gira dentro una ruota e per non andare da nessuna parte però eccoci ancora qui ancora qui vedremo vedremo nei prossimi oracoli ovviamente quando qualcosa inizierà a muoversi per il resto andate sul sito ragazzi inviateci una email iscrivetevi alla nostra newsletter lasciate email e numero di telefono e noi ci vediamo alla prossima